Salve a tutti ragazzi, io sono Maruco e benvenuti in un nuovo video sul canale e continuo la nostra avventura di cosplay con Davide Penni su The Sims 4 Prima di lasciare il video però vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto i commenti che ne pensate Vi ricordo anche che avete il codice attivo Maruco su Pampling Con i vostri ordini avrete le calze omaggio, Pampling vende davvero di tutto Guardate un po' la t-shirt che sto utilizzando oggi Trovate calze, felpe, cartoleria, c'è davvero di tutto Passate dal link qua sotto in descrizione Detto questo vi lascio il video e buona visione E ragazzi oggi si parte da qui È una bellissima giornata di primavera in quel di Willow Creek La primavera è cominciata da poco E la nostra famigliola prosegue le sue avventure La nostra Penny continua a guadagnare tantissimo con il suo lavoro Ormai l'abbiamo massimizzato I bambini ragazzi, vi faccio vedere Hanno massimizzato praticamente tutto Tranne il fatto che devono andare in bagno Ma questo non è tanto importante Il nostro Manuel invece deve terminare l'ultimo step della carriera da scout Quindi ragazzi manca davvero poco Ma signori, starete notando che in questa partita qualcosa è cambiato Questo è il primo episodio che registro Dopo l'introduzione delle fasi lunari E ovviamente lupi mannari Tanto che in realtà oggi è lunedì Ma il nostro Davide vorrebbe fare una piccola robetta Intanto guardate un po' abbiamo arredamento gradevole Insomma abbiamo tutto full Ma ragazzi la nostra famiglia si prenderà una meritata vacanza Non è una vacanza molto lunga Sarà un weekend Questo perché ragazzi Akira ci ha passato un po' una lista di luoghi particolari E visto che Davide e Penny non sono mai stati a Moonwood Mill Hanno deciso di pernottare in questa struttura Pare essere carina, pare essere pulita Niente di troppo importante Ma volevano un posto dove pernottare un paio di notti Quindi in realtà hanno deciso di andarci Quindi ora ci andiamo Andiamo con Penny E andiamo anche con il nostro Manuel Potrò portare anche polpetta Ma eviterei Quindi ragazzi si va Andiamo a scoprire insieme a Davide e Penny Moonwood Mill Ed ecco che andiamo E ragazzi questa è la struttura Moonwood Motel Direi che andiamo subito Farei per due giorni Stiamo due giorni ragazzi a Moonwood Mill Costa 1100 al giorno I simoleon per noi non sono un problema Ma non è tanto economico eh Ed eccoci arrivati Ragazzi davanti a noi Il motel di Moonwood Mill Allora che dire Intanto da fuori Non si presenta tanto bene Avete presente quando magari parlate con amici O amici di amici Che vi dicono Noi siamo stati in questo ristorante Andate si mangia bene Poi in realtà è una ciofeca In realtà credo sia successa la stessa cosa In realtà Davide si è fidato Ha prenotato qui Però il posto Non pare essere tanto caruccio Guardatelo un po' Ci sono sedie Delle robe rotte E la nostra famiglia Voleva semplicemente Passare un weekend tranquillo A Moonwood Mill E purtroppo Non possiamo fare altrimenti Visto che non ci sono altre strutture Quindi in realtà Saranno due giorni Molto interessanti Quindi signori Per prima cosa Andiamo a prendere una camera Intanto Yumiko Certo coltivare l'amicizia è importante Eh ragazzi Andiamo a prendere una camera Eh ok Questa è la mensa Intanto vai in bagno Ti prego È osceno Signor È osceno Questo motel Non è il massimo Nel senso che ci sono delle camere Molto strane Molto brutte L'ho trovata in galleria Ragazzi il motel Se lo cercate L'abbiamo buildato Insieme in live E signori È molto Molto trasgri La situation Però fa niente Pegni ovviamente Sta già cercando Ecco qua vedete I bambini hanno già trovato Dove poter andare Qua ci sono i vasini Esatto I bambini dormiranno Credo qua Eh signori si Il bambino già ha sonno L'altro bimbo ha sonno Pegni sta bene Manuel sta bene E signori Facciamo un po' Addormentare i bambini E fin tanto che loro dormono Resterà credo Davide E Pegni E Manuel Andranno da altre parti In realtà Pegni e Manuel Deciscono di andare a fare due passi Tanto è colpa di Davide Se sono capitati in sto posto Molto molto ambiguo Quindi in realtà Fa niente E quindi facciamo azioni Aggiungere il gruppo Oltretutto scusati No parla dei sogni E soprattutto Abbraccia Ma poveri E quindi ragazzi La nostra Pegni E il nostro Manuel Mamma e figlio Andranno un po' A fare due passi Quindi vai qui insieme Si perdono un po' Nella bellezza Di Moonwood Mill Intanto oggi anche nuvolo Ragazzi È una giornata un po' Così guardate Pegni Quanto è trionfia Guardate sta ragazza Come se la tira Signori Guardate Va a rallenti proprio E intanto notare Il bimbo è già andato A Sulani Nel mentre Ma comunque Lei è tanto trionfia E ovviamente Davanti a noi C'è la vecchia biblioteca In realtà Potrebbe essere Un luogo carino Da visitare Con la mamma Quindi I due vanno Intanto a vedere Un po' La biblioteca Di Moonwood Mill E poi andremo Un po' In giro Probabilmente Andremo al bar locale Faremo un po' Di turismo Eccoci arrivati Salve Qua c'è un'incantatrice Penny ti incontrerà Qui Vediamo un po' Cosa succede Beh intanto qua Potremmo anche Leggi qualcosa Vediamo un po' Il bimbo Non ci sono tante cose Per bambini Devo dire che Questo luogo è abbastanza Austero Se vogliamo Però va bene Intanto che lui Legge La nostra Penny In realtà Decide di Utilizzare un po' Di sollevamento Pesi Già che ci siamo Vi ricordo che La nostra Penny Ha il club Con gli amiche Il club del Il benessere E quindi in realtà Lei vuole Arrivare al benessere Con lo yoga Con l'attività fisica Insomma Sta facendo un grande Percorso Per se stessa E quindi questa cosa Mi piace tanto E giustamente Già che ci siamo Arriviamo quindi A livello 6 Perché no? Eh lo facciamo Massimizzare Poi magari smettiamo Appena lo raggiunge Perfetto Perfetto La facciamo andare Un attimo in bagno Dovremmo anche andare A lavarsi Poraccia Uh ma ci sono anche Le docce Beh ma ditelo subito Tanto il bimbo Che legge di bello Oh guardate un po' Nello scrittoglio Sta leggendo Al di là del brutto E cattivo Stereotipi Sui lupi mannari Eh beh Mi pare giusto Potremmo anche incontrare Qualche bau bau Cattivo Speriamo di no Tanto il bimbo Continua a leggere Durante La lettura Non pare essere Bella Ma non importa La nostra penna invece Oh guardatela Che bella energica E qua signori Non c'è Tanto da fare In realtà Qua possiamo vedere Le gallerie vecchie Qua possiamo anche Leggere E far tutto Sarebbe bello Ammira La luna Oh ragazzi Il nostro Manuel Non è mai stato Sul nostro Giustamente Telescopio E quindi ci sta La prima volta Di Manuel Sul telescopio Ragazzi Per un bambino È la cosa più bella E interessante del mondo I bambini sono sempre curiosi E vediamo un po' Come si comporta Intanto acquisisce L'abilità di logica Eh guardate un po' Che Manuel Si diverte Bella lì Sono molto felice Sono esperienze Ragazzi di vita Che serviranno Per quando crescerà Per quando diventerà Uno studente di liceo Ragazzi Perché ormai Manca poco Che in realtà Tutto quello Che apprenda bambino Sarà un valore aggiunto Per quando diventerà Adolescente E fidatevi Non manca troppo Molto bene Molto bene Oh guardate Guardate Intanto hanno fame E sonno Potremmo in realtà Tornare a casa E andare alla mensa Anche perché qua Al bar Non c'è ancora nessuno Ma visto che mancano due giorni Abbiamo diverse cose da fare In quel di Moonwood Mill Quindi in realtà So già cosa voglio fare Con Manuel Ci sono delle cose Molto importanti Però mi piaceva In questo episodio Aggiungere l'idea Che tutto non può andare Sempre bene Quindi stavolta Davide ha fatto un errore Ha prenotato Una struttura Che è bruttissima E loro Beh in realtà Sono costretti A stare qua In un posto molto brutto Per due giorni Mi piace Mi sembra Un'esperienza Di vita vissuta Per una famiglia Può capitare a tutti Quindi Mi piaceva l'idea In tutto ciò Urca Ma lui mi sta per massimizzare A livello 10 No scherzi a parte Quasi a livello 2 Aspetto anche colui Che lo raggiunga Molto bene E scendiamo dal telescopio Ho una stampa Da collezione lunare E' stata inserita Nell'inventario Di Manuel Ok Vediamo un po' Bellissimo Chiarore della luna Eh sì Ragazzi Ci sono anche tutti questi Collezionabili Teniamoli a mente Magari in futuro Cercheremo di collezionarli tutti Tanto lui sta andando A dormire Ma no poveri Direi che torniamo All'alloggio Parliamo un po' con Davide Vediamo se Davide Ha parlato con Il proprietario del motel Per chiarire un po' La situazione Visto che i patti Erano altri Hanno chiesto una suite Per una famiglia Non si aspettavano Di raggiungere sto luogo E siamo Tornati A casa A casa Un parolone Ma Eh ok E qua facciamo così Servi tutto Il pasto è gentilmente offerto Dalla mensa Eh ragazzi sì Intanto il bimbo va A far tutto ciò che deve Grazie Penny Chiama a tavola Ti prego Facciamo una cenetta Qua guardate che bello Guardate le luci Quanto ambient Quanto ambient Bello Signori Guardate la tristezza Ovviamente Penny Sta pensando in questo momento Se becco Davide Non sapete cosa li faccio Altro che licantropa Altro che lupa mannara Lo sbrano Però va bene così E infatti a disagio Per il pasto Lievemente sgradevole Perché ragazzi Sto luogo È la cosa più brutta Che ci sia mai capitata Vedete Anche i bimbi Piangono prima di mangiare Perché sanno Che fa tutto schifo Però non importa Vai bimbo Mangia Mangia papà Poverini Ragazzi Che vacanza Becera Posso dirlo Una vacanza Becerissima Però ragazzi Ci sta Ripeto Non è tutto oro Quel che luccica Quindi mi piace l'idea Mi piace l'idea Tanto il bimbo Può prendere una porzione Grazie Perfetto Va a mangiare L'altro bimbo Sta bene Dovrebbe divertirsi In un luogo del genere Immagino come ti diverti Però L'importante è farlo L'altro bimbo Sta mangiando Molto bene Questa è la nostra camera Ragazzi La nostra suite Usiamo il vasino Molto bene E qua possiamo anche giocare Parla Braccia Con piedone Almeno quello Ce l'hanno dato Ragazzi In camera Dai Poteva andarci Decisamente peggio E qua ragazzi Polpetta Ce la siamo portata appresso Non avevo visto Che c'era anche polpetta Ciao polpetta E mo che faccio Mo è colpa di Davide Davide ha fatto tutto Benvenga Davide Peggio per te Davide Te la sei cercata E allora a sto punto Fatemi trovare la cassetta Della posta Che non vedo Davide dovrà comprare Le cose per il gatto Ok il bimbo Stanno andando a giocare Bravo Forza Braccia Poi possiamo fare Parla In teoria Questo dovrebbe Aiutarlo a divertirsi Non proprio Non proprio E allora Perfetto Si diverterà Con il fratellino Tanto Davide Può dormire Manuel Può mangiare Grazie E poi puoi anche Andare a letto Questo è il letto di Manuel Ragazzi Dormono tutti nella stessa stanza Signori Naffarone Sto luogo Sto luogo è stato Naffarone Che manco ve lo dico Signori Sono proprio tutti infelici Guardate i bisogni Come calano Anche perché ragazzi Questo lotto Ha dei malus Particolari Vedete Arrivano Tanti cagnolini E gatti randaggi Perché è un luogo Un po' abbandonato Che bello Cairo Che è però Cairo è Bellissimo Urca E qua abbiamo Minnie Adulta Si ragazzi Qua vengono cani Gatti C'è un po' di tutto Signori Penny Può anche mangiare Un qualcosa E ragazzi A questo punto Sono le nove Ultimo giorno Aspettiamo un attimo Che Manuel termini Un po' il sonno Così almeno Sta meglio E direi che stavolta Va a giro col papà Va a giro col papà E so io più o meno Dove andare La cosa buona Di Moonwood Mill Come vi ho sempre detto È che non c'è bisogno Dei caricamenti Lui E il nostro Bel Davide Possono andare qua Tranquillamente Senza fare Chissà quale sforzo E il nostro Davide Decide di portare Il suo bimbo Qua alla Golanvik Eh sì ragazzi Il nostro Davide Vuole portare il bimbo Qua al lago L'Anvik E soprattutto Il nostro bimbo Che è qua Deve guardarsi attorno Perché vi ho detto Che manca Un unico E ultimo step Per completare Tutto ciò Che riguarda Dali scout Ovvero Pescare un pesce O delle rane Quindi io vado A pescare Oltretutto ragazzi Anche Primavera Quindi in realtà Questa cosa Mi piace E soprattutto Ci permetterà Magari di fare Anche un bel bagnetto Padre figlio Vediamo un po' Eh Loro avevano Cominciato a pescare Se vi ricordate Nella serata Padre figlio Che abbiamo fatto Nel campeggio Vicino casa Ok Vedete Lui dovrebbe aver Appena Finito Tutto E soprattutto Qua Nuota con Davide E Penny Facciamo una nuotata Di famiglia Con i genitori Sì ragazzi Sì 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 Gradisce la pesca Perché no Che bello Guardatevi ragazzi Che vanno a nuotare Che bello Povero Il bimbo in realtà È un po' a disagio Perché dovrebbe andare In bagno Però Guardate che bello Tutti che nuotano Nel lago Dai Che bel momento Ci sono anche Dei film Un po' sconosciuti Però comunque L'importante Farlo Tanto lei sta arrivando Di corsa Molto bene E anche la nostra Penny Ci raggiunge Ci raggiunge Congelamento a morte Scherza Penny No a papà Vai qua grazie Notare come esce Dall'acqua Sta ragazza Abiti Cambia abito Mettiti quelli Per l'aria Fredda Ma tipo instant Ok Tornami di un colore normale Grazie Penny Grazie a papà Guardate Che cosa sta facendo Davide Il bimbo Che sta facendo Il bimbo Ha dei bisogni Ma In realtà Oggi Abbiamo La luna crescente Fatemi vedere Quando sarà Luna piena Quando noi saremo A casa Purtroppo Quindi non possiamo Prendere il petalo Di luna Ma non importa Certo è Certo è che il nostro Manuel deve Prendere le rane E Qua C'è un luogo Molto Pericoloso Dove in realtà Manuel S'avventura Da buon avventuriero Qual è Vicino a Greg Per prendere L'ultima rana E completare Il suo percorso Da scout Eh si ragazzi Sta arrivando Eccolo che arriva Eccolo che arriva Direi che Ok va a far pipì Da Greg Non ho parole Manuel non sai in che guaio ti sei cacciato A papà Manuel no ti prego Non puoi far pipì da Greg Vabbè Non importa Mettiamo ovviamente Gli abiti Per il tempo Giusto E il fatto che lui sta Niente ragazzi La vacanza sta per finire Non riesco Dobbiamo Portarli a casa Le riporto a casa ragazzi Così almeno Intanto Davide ha guadagnato Dicevo Le riporto a casa Mi occupo dei bisogni E poi torniamo Qua da Greg A prendere l'ultima rana E ce ne andiamo Al bar E ragazzi È passato Un po' Di tempo E guardate Che sta succedendo Ho trovato la cassetta Non la trovavo ragazzi Quella della posta Era qua dietro Nascosta Io ho comprato Una ciotola E la lettiera Per polpetta Per polpetta E problema Quanto è bello ombra Mazza è gigante Dicevo ragazzi C'è troppa Troppa gente C'è un beagle Bellissimo Ragazzi C'è troppa gente Polpetta ha mangiato Eh Però ha buona compagnia Direi che Signori Abbiamo Tanti Tanti Vicini In questo motel Notare ragazzi Quanti cani Quanti gatti Signori Che disagio Ripeto In realtà Dovrebbero essere I padroni Del luogo A rimborsarci E invece Guardate poi La notte Con i lampioncini È molto 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 Inquietante Sto luogo Ragazzi È molto Molto Inquietante È una vacanza Che Levatevi proprio E ovviamente Sta per finire Fatemi vedere Quanto manca Beh o di un giorno Allora Possiamo Aspettare domani Andare con Manuel A fare l'ultimo pezzetto Appunto La rana Vicino a Greg E poi andiamo anche al bar Perché ragazzi Sì Ora Ma presto A passare una bellissima notte Tranquilla Sotto le stelle Di Mood Mill In sto Motel Tanto Bello Eh C'è Che fai Te ne privi Arrivano anche i fantasmi Ragazzi Sì Credo siano altri ospiti Però Se Penny pulisce Arriva gente random Ragazzi Non so come commentare Sta vacanza Questa famiglia Che appunto Ha sempre fatto le cose a modino Nei luoghi un po' carini E sono andati in Marocco Per la luna di miele E sono andati là E tanti lotti E la sorpresa Dell'anniversario Il lotto tutto romantico In quel di tartosa Luci Stelle E c'è E sono ridotti qua Stavolta Davide ha toppato Ma anche Davide è un bravo ragazzo in realtà Ed è umano Quindi ci sta a sbagliare Sicuramente Non si vedrà l'ora di Lasciare una recensione In sto luogo Perché Sicuramente È indimenticabile Su questo Non ci piove E Penny Sta Conoscendo Cani Gatti E tutto ciò che ne deriva Perché Giustamente C'è tanta gente qua Tra cui i fantasmi Detto ciò Signore Visto che Visto che Noi abbiamo pagato Abbiamo pagato Questa camera No Quella grande Però abbiamo visto Che una Non è occupata E allora Abbiamo Deciso Con Davide Di buttarla Sul ridere E quindi in realtà I due ragazzi Vanno a fare Fichi fichi Per dimenticare Per dimenticare Tutto Tutto ciò che è successo E quindi vediamo Un po' cosa succede Eccoli Tanto ragazzi Chi volete Che li disturbi Cioè nel senso Va bene così Sono già le tre Domani mattina ragazzi Dobbiamo andare in gita Con il nostro Manuel A prendere l'ultima rana E direi che passa La paura La cosa bella È che è stato Un buon Fichi fichi Dal momento che Le è flertante Soddisfazione Perché comunque Il motel Ha anche dei lati Positivi Probabilmente E signori Arriva l'alba E alle prime luci Dell'alba Visto Visto che il nostro Manuel E il nostro Davide Non sanno Effettivamente Se quella è una proprietà Privata Decidono Di arrivare qua Vai qui insieme Ovviamente Il papà Accompagna il suo Bambino Non lo lascerà andare Anche perché Davide è un po' Spaventato In realtà Dai cartelli Quindi a questo Punto Vedete Che succede Quindi ragazzi Sì C'è qualcosa Che sa gira In questa zona Ma il nostro Manuel Deve andare in missione E prendere L'ultima rana Perché stiamo Perdendo soldi Probabilmente Stanno mangiando A mia insaputa A sbaffo Non importa Ecco qua Che Davide È arrivato Si guarda attorno Spaventato Mi sento Osservato Mi sento Osservato Ma deve cercare Le rane Il nostro Manuel La papà Articoli di distributore Automatico ricevuti Uh È uscita vittorio Che sta comprando Penny A mia insaputa Qualche souvenir Di No Probabilmente Solo del cibo Forza Forza Manuel Eccolo 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 Ragazzi È arrivata la missione Tanto attesa Guadagnato Un distintivo Da scout Manuel Ha guadagnato Un distintivo E ragazzi Abbiamo appena finito Nella tenuta Di Greg Tutta La nostra carriera Da scout Finalmente Ce l'abbiamo fatta Tanto Ok vedete che Davide Corre dal bambino E gli dice Hai fatto tutto Sì Andiamo via Andiamo via Ti porta papà A prendere un gelato Andiamo a prendere un gelato Al bar E a questo punto Davide dice a Manuel Ti porto a prendere un gelato Andiamo a prendere un gelato Scappiamo da qua Perché Non so se Fosse una proprietà privata E se ci beccano Aiuto Quindi in realtà Sì è stato Un momento Un po' così Ma non importa Ora ci prendiamo Una granita E passa La paura Ecco C'è il baretto Ciao Cosa ti offro Allora Assumi un mixologo Anche meno No grazie C'è il mixologo No Vorrei Ordinare Una Qualcosa Siediti qua E anche lui Siediti Giustamente Qua Ordiniamo Del cibo Hamburger Vegetariano Affettati Misti E poi prendiamo Anche una bevanda Di gruppo E cosa prendiamo Magari un succo Per il bimbo Sì Non qualcosa di troppo Esagerato Eh siamo sempre Con un bambino Cioccolata Abbondante Oddio È primavera Ma secondo me Ci può stare Perfetto Il bimbo Deve andare in bagno E deve anche mangiare E allora il bimbo Un attimo Va qua Grazie Anche Davide deve andare Ovviamente in bagno Instant Quindi vai pure E il bimbo E il bimbo Ha solo un po' di fame In realtà niente di troppo Complicato Va bene Quindi va tutto bene Nel mondo Molto bene Davide sta andando Sì E ragazzi L'avventura da Greg È stata pericolosa Ma ha permesso Al nostro Manuel Di completare Tutto il suo percorso Di scout L'abbiamo fatto Nella fascia d'età Bambino Vi ricordo Oltretutto Dobbiamo tornare a casa Perché mentre padre e figlio Sono andati a nuotare Sono andati a pescare Hanno visto Moonwood Mill Sono andati da Greg Sono andati al bar Eccetera La mamma Che in realtà È vittima Delle scelte Di suo marito Non sappiamo Sì è andata Da un avvocato Divorzista Oppure semplicemente Sta a casa A prendersi cura Dei gatti E dei cani Quindi ora Ce ne accertiamo Eccola qua Sta povera ragazza Sta povera ragazza Sta povera ragazza Allora Eh Facciamo così Noi Andiamo a dormire Portiamo qua Manuel E portiamo qua Davide Perché in realtà Davide e Penny Devono parlare Cioè Penny dice Senti Avete preso due rane Hai portato Il bambino A vedere un po' La città Grazie Sì Ci torneremo Perché Moonwood Mill È molto bella Come cittadina Potreste tornare A far campeggio Suggerisce A Davide e Manuel Potreste venire A pescare qua È un bellissimo luogo Di pesca Per voi due Quindi per avere Dei momenti Padre e figlio Però Il fatto che Mabbia fatto Venire qua a dormire Non è il massimo Quindi giustamente Penny Sta dicendo a Davide Davide Senti Io te lo dico Con tutto il cuore Andiamocene Cioè io non riesco più Ci sono troppi cani Ci sono troppi gatti Il gatto non mangia Perché ce ne sono altri Cento che rubano Il suo cibo I bambini stanno male Sono a disagio Sentono la mancanza Dei giocattoli Qua non ci sono giocattoli Il cibo è scadente Mi so sentita male E lo sai No Le dice a Davide Che succede spesso Quando mi porti a giro Quindi Sì Alla fine Probabilmente Loro Termineranno La vacanza Hanno fatto però Tutto Eh ragazzi Però Il fatto che sono Andati In motel È stato un guaio E torniamo a casa Tesi Mangia soldi Per il distributore Automatico Bloccato Eh sì Notare che quando Torniamo a casa Qua Pepe Sempre Li devo eliminare Ragazzi Perché ormai Non se ne può più Detto ciò Momento importante Ovvero Raccoglio il distintivo Avventura all'aperto E raccoglio il distintivo Responsabilità Civica Vi ricordo che avevamo già i due distintivi Ragazzi Ve li faccio vedere sulla parete Dovremmo prendere così Loro Promosso a scout Velocemente L'abilità È tutto dire Un bambino che vi ricordo È all'elementari Da dieci Vi ricordo anche che i suoi fratellini Hanno massimizzato tutto Davide In realtà deve raggiungere il livello 8 Della carriera medica Quindi manca ancora un po' Ma nei prossimi episodi Lo faremo Siamo davvero a buon punto Con questa famiglia Siamo davvero A buon punto E a questo punto Ragazzi Credo Credo Che mancherà pochissimo Prima Della fine Di questa generazione Inteso come stagione E l'inizio della prossima Che comincerà in cocomitanza Con vita Da liceali Per questo video quindi ragazzi Io vi dico che è tutto Vi ringrazio per essere arrivati Fino a questo punto Vi ricordo di lasciare un mi piace Se il video vi è piaciuto Vi ricordo anche che qua a schermo Trovate il canale Se volete iscrivervi Anche i video consigliati O come sempre vi do L'appuntamento alla prossima E vi dico Ciao a tutti